Loredana Berthe è costretta a rinviare il tour, dovrà sottoporsi ad intervento urgente ma non è in pericolo di vita. Loredana Berthe è stata costretta ad annullare il tour che sarebbe dovuto partire il 7 aprile al teatro sociale di Sondrio. Il motivo è un'urgenza medica che porterà la cantante ad affrontare un intervento. Ecco il comunicato dallo staff su Instagram. Al momento nessun dettaglio circa l'operazione ma quello che è sicuro è che sarà imminente. Lo staff ha poi aggiunto che Loredana Berthe ha provato in tutti i modi per poter fronteggiare il dolore fisico e andare avanti con il tour. Ma è stato impossibile. Ad ogni modo però, si rassicurano che Loredana Berthe non è in fin di vita. La cantante è molto apprezzata da tutto il pubblico sia per le sue innegabili doti canore. Sia per la sua estrema schiettezza nel dire sempre ciò che pensa. Ricordiamo infatti le molteplici discussioni avute quando fece la giudice al serale di Amici. O magari quando, recentemente ha espresso la sua opinione su Elenoire Ferruzzi. Brutte notizie dunque per i fan che dovranno attendere un altro po' di tempo per poter vedere dal vivo la loro cantante del cuore.